Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft e torniamo a giocare le speedrun, nello specifico le tipok speedrun, ormai hanno il loro nome, lo sapete, sono molto particolari, li abbiamo già giocati una volta, vi sono piaciute tantissimo e le rigiochiamo, ma questa volta io sarò l'assassino e voi tre dovrete sopravvivere, quindi le cose saranno molto diverse E tra l'altro, dato che per Buddy è risultato leggermente troppo difficile arrivare all'arma, ci aveva messo un po' troppo, sarà leggermente più semplice questa volta, di conseguenza potete aspettarvi l'arma un po' prima, ok? Vi ammazzo tutti insomma Quindi te che ci vieni a cacciare un po' prima Esatto, questo è già l'acqua, astassino, ok, siete pronti? Sì, andiamo Ok, allora, forza, 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 mi fai subito nella linea Zappa 15 blocchi, no Raccogli dieci rose, si vola Dieci rose è facile Grande, è facilissimo quello Un po' di fortuna per Buddy, tanto se hai fortuna all'inizio avrai fortuna dopo, mio caro Esatto Allora, legna, 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 legna Allora, la mia prima cosa da fare, perché in effetti loro non lo sanno, non lo vedono, è creare la lama, ma per creare la lama ho bisogno giustamente del ferro Per creare il ferro, giustamente ho bisogno del piccone, per creare il piccone, giustamente ho bisogno di altro piccone, per creare quel piccone ho bisogno di altri picconi Di conseguenza devo fare tanti picconi Stai bene? Sì, 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 sto bene Anch'io mi sono persa a metà discorso Allora, riprendiamo la crafting table subito, così e vado subito a miniera Allora, ecco qua, due bistecche Ci sono, ci sono Due bistecche cotte tra l'altro, immagino Mi serve pure un'ascia Perfetto Così, scendiamo di qua, beh perché è disperato Quindi, quindici blocchi, me li devo pure contare Uno, due, tre, quattro Facciamo così, facciamo così, facciamo subito così, facciamo subito Con la seconda Ho sbagliato, plan, bene Parti! Ma c'è la terza Eh sì, però devo mangiare le bistecche, devo mangiare Ma come fai sei la terza, scusa Io sto facendo la seconda Avevo raccogli dieci rose, subisci danno da caduta due volte Vabbè, ma denunciatelo Ma perché? Eh beh, un po' di fortuna qua, eh Ma lo so io Pagli sopravvivere, ragazzi, ve lo dico già Io sto facendo la corteccia degli alberi, quindi super easy Io, Stef, ho una tecnica Non sto facendo le altre missioni, ma sto iniziando a fare fornace e piccone inferno Che tanto sicuro il 100% mi serve Quindi mi porto avanti Fai benissimo Guarda come tryhard Pello dice pure a me che sono l'assassino, capito? Ho soddisfatto di questa cosa, bravo Complimenti No, un lingotto d'oro Questa è quella più complicata Bah, sì, è difficilissima Eh, un pochino No, non difficile, ma un po' lunga da realizzare Tutto lì Facciamo così E poi, fin da subito, ritorno su Mi son perso No, non perderti Rimani lì, tranquillo Ok Vaddi Dai, mi ha fregato le bistecche Che succede? Fatti la tua fornace Ridami le mie bistecche Guarda che ti posso chillare anche a piccone No, 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 no Ormai sono rubati No, 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 c'ho due cuori Mi devi solo far salire Steph, per favore Io li ammazzo Ti sta bene Steph Io li ammazzo entrambi Non puoi cacciare prima di avere l'arma Sì, se loro provano a rubare Io posso picchiarli quanto voglio Sì, ma non li puoi ammazzare No, no, ho un cuore in mezzo Vai via Vai via anche tu Oh, ragazzi, Galbi Guardate che Vaddi sta morendo, eh Mi hai preso tutto il ferro No, 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 Marci Questo non dovevi farlo Eh, vabbè, Steph Se ti distrai così vale anche quello Ma cosa mi distrago? Due piccioni Sembrano Cosa mi distrago? Di che cosa? Scusami Vaddi non hai preso le mie, vero? No Vaddi! Brava mia Ragazzi, mi crato una spada normale di ferro E vi ammazzo tutti e tre Ma è giusto E io ve l'ho detto Preparatevi Io dicevo che è giusto ostacolare l'assassino Scusami Che vogliamo essere ammazzati, Steph Ok, allora venga a picconarti alle spalle E vediamo quando muori L'altra volta Mi avete rubato anche me Certo, mi avete rubato tutto il ferro due volte Vorrei vedere chi ti ha ostacolato così tanto Ma io non ho rubato solo tre, raga E altri tre batti Quindi sono sei di ferro rubati Due Io vi ammazzo Con sei dovrei poter craftare la lama, credo Vediamo un attimino Sì Sì, sì, sì Cucina un pesce Ok Poi ho fatto taglia un albero Ci sono, ci sono ragazzi Sto recuperando Lama grezza creata E io me la tengo già per pestarvi Ve lo dico Quindi avvicinatevi di nuovo schifosi No, devo fare un diamante Poi facciamo così Poi utilizziamo questa per fare gli iron nuggets Che mi servono Fai re, devi lasciarmi in pace Bisotto d'oro, lo sto facendo Povero Steph Poi prendiamo questi due Allora Allora Uno Sto morendo di fame Due Ah, non è inutile che hai crafto perché mi serve il lingotto d'oro Dai Sono le bistecche, te le porto Non ti ho preso niente, non ti ho preso niente Tanto c'è la lama Sono stato corretto, sono stato Io sono sempre corretto Tanto morio Allora, viti create Guarda che io sono all'ottava questa Mi mancano due Grazie Io non ho veramente parole No, non è vero Sono tipo la quinta Io sono tipo alla terza Che era lunghissima Però ho appena fatto il lingotto d'oro Quindi ci sono Ok, devo andare a far questo Specifico Forza, 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 forza Non è una buona idea Ragazzi Mi è uscito le dodici frecce No Addio 45 di pane Vati al primo a morire Allora, mangiamo la bistecchina Perfetto E ora Mucche Io devo cercare Devo fare il pane Non cercare Quindi Aia Vabbè, so passata io e mezzo Grano, 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 grano Ma non faccio danno con la lama grezza Chi mi ha rubato le cose di nuovo? Io no Io sto facendo adesso No, io allora mi sto lanciando Nella montagna Ragazzi, io vi informo che Buddy morirà Anche se non ho l'arma Uno E due Buddy morirà Anche se non ho fatto l'arma Non ho altro da dire Ma non ho fatto niente Ma io ho tutte missioni Che cercano di uccidermi Prima mi devo lanciare Poi devo andare sott'acqua E terminare le bolle No Non lo so Come si fa la stone cutter? Uuuuh Io non lo ricordo Di stone sotto E un pezzo di ferro Ok Le slab però Dai signora assassino Sono buona con lei Kev è arrivata quella missione Quale missione? Quale missione? Le mele No Ok, terminate le bolle Via Le mele no Le mele no Non ti vetti cinque blocchi Ok Dai 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 Signora assassino Le ho messo Le ho messo il ferro Ecco 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 Meno male Allora quindi le slab Per fare lo stone cutter No, servono i blocchi di stone normale Se non sbaglio L'altra volta ho fatto così io Cobblestone O stone normale? No, no Stone Devi cuocerla stone Adesso te lo dico No Ci vuole una vita No Ok Andiamo da questa parte Ok 25 blocchi fatti Mangia due mele No Pure io No Così Fere Questa è È tosta Questo è un duro colpo È tosta Peggio del lingotto d'oro Questa Molto peggio Ma il lingotto d'oro è facilissimo Ma lascia perdere È lunghissimo da creare Ma dove? Se già le cose è semplice Ma io non avevo nulla Stef Vabbè ma tanto prima o poi Ti serve sempre il piccone e tutto Quindi quello è un investimento Sì ma vabbè Io non avevo niente Quindi farla come seconda missione O terza Allora ti prego Fammi fare sto stone cutter Oh Finalmente No quindi sei già la terza Tipo al terzo step della lama Allora Ti prego Quindi devo far così E far Dai mela Così Poi a questo punto Quindi devo far così Devo far così E devo far così Qua non cadono mele Io ve lo dico Ah no non sono evita Io devo fare un piccone di ferro Anche se ce l'ho già in mano Fai te Ok a questo punto Mettiamo Allora mi faccio anche Perfetto Un'ascia migliore Allora dovete sapere che io ho la spada dell'assassino Te l'hai già Ma non ho quella giusta È l'ultimo step Adesso tipo ti manca Ti manca l'ultimo craft Giusto Esatto Bravo Oh mio dio Ma no La mela Ti prego aiuto Non ne ho di mele io Sennò te l'avrei data Ok È giusto però ragazzi Ma non ne cade neanche una Ma è impossibile Ragazzi ci sono passato già una volta Solo di cosa parlare E poi le devo pure mangiare Quello è il problema Quindi mi devo anche far venire No ragazzi Ottieni una mela dalle foglie Ma a me erano capitate due Quindi una è anche easy Io mangio due mele Eh appunto Quindi non è solo ottenerle Ma pure mangiarle Allora Una mela Una mela Una mela È caduta Davvero Signori Inizia la guerra Ho l'arma Aspetta Devo aspettare L'altra mela L'altra mela Eccola Ok scappo Tanto poi le devo mangiare Io inizio Scappo 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 Ma ti vai via da qui No Così se corro Mi viene pure fame No Siamo vicini Siamo più forti Ma che Sei matto Ma vai via Dai Dai eh No raga Buongiorno Aiuto Dov'è Ah Non mi può vedere Per scappo E di fianco a te E sto scappando Allora Facciamo così Che ansia Devi tenertela L'ansia Mio caro Buddy No Ma perché mi stai seguendo a me Cosa ho fatto di male Era una promessa Buddy Aiuto No 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 Sei troppo cattivo Che cattiveria Ma state zitti tutti Guarda Ricordatevi che potete usare i poteri Io sono scappata così Brava Io ho fatto l'invisibilità Però mi vedeva guardando Come Immagino Esatto Eh sì Quello è un problema Allora Ok Ragazzi Io ho fatto le mele Ho fatto la prossima Devo fare un'altra cosina caruccia No Che fortuna hai avuto Tantissimo Ok Io le mele le ho fatte Cucina un pesce Non è che la canna da pesca Ragazzi salvatevi per me Dove siete? Eh Steffo Come accidenti Mi procuro la canna da pesca È facile No è difficilissimo Devi andare nella miniera Eh appunto Ma io ti vedrò Mia cara Fere Io sono nascosta Mamma mia Dov'è quello schifoso di Marci? Dov'è? Allora ti dico io dov'è Alla Marci Ho vinto No Sono arrivato Io non ci credo Qualcuno mi dia una canna da pesca Vi prego Mi scoggiuro Ho dovuto finire perché era di fianco a me Steffo Io non so come fare ragazzi Il teffo è questo a un millimetro Non so come fare Non ho minimamente visto Ti stavo cercando Ce la puoi fare Ce la puoi fare Credo in te Allora Occhi aperti Osserva tutto Io non so se Fere è già dentro la miniera o meno Posso scrivere un messaggio a Fere con le MSG Così non lo vedi? Sì sì Scrivimelo Aiuto Ma dov'è la schifosa? Dov'è? Nascosta E lì c'era arrivata Altrimenti te l'avevo già vista Allora devo cercare del rosa in questa mappa Noi ridi ridi Marci ti sta dando consigli E certo scusa Non stai scherzando Già non ho dovuto Ho dovuto finire Perché sennò tu mi ammazzavi Non è Esch cosa? Che paura Io dopo vedrò dalla tua visuale Se non mi hai vista È stato stato tipo Ma come ho fatto a non vedermi? Ma zero proprio eh Ho l'ansia Non credo ci siano altri modi Per fare la canna da pesca Se non entrare nella miniera Teoricamente no Io non so manco come si fa la canna da pesca ragazzi È un modino Allora sono Diagonale di stick E dopo la diagonale di stick Devi mettere sul lato destro Due pezzettini di Di corda Ok Eh la corda è come procurarmela Facendo un disastro Non so se qualcuno Mi sta vedendo Non la trovo ragazzi Io non so dove sta vivendo Questa qua Ha una vita propria Nascosta sotto terra Esatto più o meno Sto cercando di evitarti Giustamente Io vi posso dire una cosa Non siete mai stati vicini Ok ok Quindi è positivo per me Provarci Io non so se sto facendo giusto Mi capisci? Io ti sto guardando Tranquilla Ti sto guardando Ok Eh Io veramente Tu vai Tu vai lì Vai Continuo Ho sentito rumori strani È per quello che mi sto fermato un secondo Eh quello non te lo posso dire Se è vicino No certo certo Non me lo dire Non me lo dire Beh grazie Stavo solo spiegando il perché Sono pure gentile Steph È il motivo Cioè non lo so io Io sto usando Vabbè Vabbè Ma l'invisibilità Tipo per scappare Andare in miniera Eh no amative di passi Esatto Non hanno a moda essere difficile Io non so come Peffere e panica Che paura E dov'è? No no Non dire niente Non fare Non aver reazioni Non capisco Stavano di capire Stavano di capire Ma non capisco Che si è trasformato in un pollo No Non ti perderò mai di vista Mia cara Ma l'avevo passando sotto terra Ma cavolo Avevo sempre I blocchi che mi facevano scoprire No Dovevo tragiardare sotto terra Ma non capivo dov'era la miniera Era impossibile Ho fatto comunque un tunnel gigantesco Ma dove l'hai fatto? Sotto terra Questa è una talpa Appunto Proprio il problema È che un blocco Mi ha fatto vedere Quindi ho detto Provo a correre verso la miniera Perché non sapevo dove fosse E niente Proprio lì davanti Era l'unica Steph Era l'unica a passare sotto Guarda il tunnel Che si era creato Sta qui Guarda che matta Esatto GG per Steph Che ci ha battuti Esatto 2 su 3 Guarda lo schifoso Eh vabbè Però è come Mi hanno perso Si è salvato Facendo di fame Ragazzi È sempre un tryharder Ma cosa È andata bene Ci stava Ci siamo affettati un pochino a vicenda Va bene così Speriamo che il video vi sia piaciuto Fateci sapere Nel caso organizzeremo Con delle varianti particolari Magari l'assassino Tipo direttamente un carro armato Vediamo Qualcosa di semplice E di leggero E di non troppo invasivo E di sobrio E di sobrio Esatto Quindi fateci sapere Se volete vedere altri video di questo tipo Salute come altri video Iscrivete al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao